Giovanni Cavallari, dopo il settino dei giorni scorsi delle 36 famiglie della palazzina dichiarata inagibile dopo il sisma del 2009 a San Nicolò a Tordino, oggi in Consiglio Comunale il Sindaco prende impegno di risolvere comunque la questione, di cercare di risolvere la questione avanzata in Consiglio Comunale sia da parte dell'opposizione che della maggioranza. Sì, devo dire che il consigliere D'Alberto ha più volte nel corso di questi tre anni fatto interrogazioni per sollecitare l'amministrazione comunale affinché si risolvesse questo problema annoso. La cosa che noi abbiamo denunciato più volte è questo concetto che passa a livello cittadino di un servizio forse non reso all'altezza del comune capoluogo per quanto riguarda i problemi del sisma. E ovviamente oggi l'apice di questa polemica che è stata sempre ascoltata, continuamente segnalata a noi consiglieri di minoranza, oggi l'apice di questa polemica si vede con la palazzina di San Nicolò. Il Sindaco oggi è stato sollecitato sia da consiglieri in maggioranza sia da consiglieri in minoranza come diceva dal consigliere D'Alberto e ha preso degli impegni che da qui a dieci giorni, da qui a pochissimo, a breve, cercherà di risolvere il problema. Il problema non è da qui a domani, il problema è che cosa abbiamo fatto nei precedenti tre anni. Questa è la domanda che abbiamo posto, questa è la domanda che poniamo e non possiamo sicuramente essere felici di una risoluzione che può avvenire da qui a 48 ore al massimo quando invece l'avremmo potuta avere tre anni fa o quantomeno avremmo potuto lavorare affinché questa risoluzione arrivasse prima di questo epilogo così brutto. Siamo vicini a queste 32 famiglie, siamo vicini ai cittadini, abbiamo cercato in tutti questi tre anni a sollecitare l'amministrazione comunale probabilmente non siamo stati in grado di far capire il problema, oggi lo hanno capito anche dalle proteste che hanno messo in atto i singoli soggetti interessati.